Salve a tutti amanti delle storie e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo tornati con la rubrica chiacchiere potteriane per parlare del secondo film di animali fantastici, ovvero i crimini di Grindelwald. Film che ha spaccato in due l'opinione dei fan, sollevando molte critiche, la maggior parte secondo me fondate. In questo video non vi farò una vera e propria recensione perché ce n'è già una presente sul canale che è piuttosto esaustiva. Ve la lascio nelle schede se non l'avete ancora vista. Le mie impressioni su questo film sono confermate per lo più perché se è vero che dopo quattro visioni tutto risulta più chiaro è anche vero che ci sono degli evidenti problemi di ritmo, sceneggiatura e soprattutto montaggio. Che cosa quindi faremo in questo video? Andremo ad analizzare il film quasi scena per scena mettendo in luce gli snodi centrali e facendo anche qualche piccola teorizzazione per il futuro. Si dice teorizzazione, spero di sì. Quindi direi di iniziare subito perché la strada è lunga e questo video sarà infinito. Ovviamente ci saranno degli spoiler, quindi fan avvisato concludete voi la frase come meglio credete, magari in rima. Il film inizia con la fuga di Grindelwald durante il suo trasferimento in Europa. Di questa scena ci sono solo due cose da segnalare, ovvero la bacchetta di Sambuco è già nelle mani del mago scuro che quindi l'ha presa necessariamente nel tempo antecedente alla sua cattura e dal momento della cattura alla sua fuga sono trascorsi sei mesi. Arriviamo quindi a Newt, il nostro protagonista non più tale in questo film. Ricordiamo infatti che a livello narrativo è più importante lo snaso di lui, ma questa è un'altra storia. Sono trascorsi altri tre mesi dalla fuga del mago scuro. Newt è al ministero per incontrare una commissione che deve decidere se revocare o meno il divieto sui viaggi internazionali che lo riguarda. Qui emergono dei dettagli importanti per chiarire gli schieramenti. Prima di tutto ci viene confermato che Credence è vivo e che in pratica è l'uomo più ricercato del pianeta. A cercarlo infatti non è solo Grindelwald che vuole usarlo come arma e potente alleato, ma anche gli Auror che, detto fuori dai denti, vogliono farlo fuori perché ritenuto una minaccia. Ed è proprio questo l'accordo che propongono a Newt, ovvero trovare ed uccidere Credence in cambio della sua libertà di circolazione. Newt ovviamente rifiuta, primo perché non ha nessuna intenzione di uccidere il ragazzo, secondo perché non apprezza in generale il lavoro e la mentalità degli uomini del governo. E qui ci torna utile un dialogo che avviene in seguito con Tina, ovvero quello che riguarda le teste di mezzo. Qui vediamo infatti che Newt non considera la parte istituzionale migliore rispetto a quella fuori legge, per un semplice motivo, perché è incapace di affrontare i problemi in modo critico, ma tende a semplificare e a reggire con la forza o scegliendo semplicemente la strada più facile, ovvero uccidere la minaccia. Questa è anche la ragione per cui Newt dice al fratello di non volersi schierare, non ritiene che ci sia del giusto nell'operato di nessuna delle due parti. Tina, invece, come Silente, ma anche lo stesso Newt, scelgono una terza via, che è quella di salvare il ragazzo. E questo perché tutti e tre sono delle teste di mezzo, quindi visionari pronti a fare ciò che è giusto, anche se è più difficile. E qui, tornando alla scena del ministero, quindi Newt rifiuta l'incarico, che viene così assegnato ad un losco individuo, che poi scopriremo essere uno sgherro di Grindelwald. Grindelwald, che nel frattempo è arrivato a Parigi, occupa abusivamente una casa, uccidendo tutti gli inquilini, e, cosa importante, fa mandare un biglietto a Credence. Tenete bene a mente questa cosa perché ci tornerà utile tra poco. A questo punto abbiamo la prima apparizione di Silente in scena. Lui, infatti, intercetta Newt al solo scopo di mandarlo a Parigi, a trovare e salvare, laddove sia possibile, Credence. Da questo dialogo scopriamo anche che è stato lo stesso Silente a mandare Newt a New York, allo scopo, non esplicitamente dichiarato, di fermare Grindelwald. Un po' di belle parole, quindi, è un biglietto per una casa sicura e Newt praticamente si fa convincere a partire per la capitale francese. In questo dialogo c'è un altro elemento importante, ovvero la storia della Fenice, questo animale straordinario che, secondo la leggenda, andrebbe in soccorso dei Silente. Ora, perché ce lo raccontano? A noi spettatori, sicuramente in previsione della rivelazione finale, a Newt per via del suo interesse sulle creature magiche. Vista però la tranquillità con cui Silente racconta questa storia, è facile dedurre che un tempo, quando erano più che fratelli, l'abbia raccontata anche a Grindelwald, il quale, e qui vi metto una pulce nell'orecchio in vista della teoria finale, potrebbe aver sfruttato l'informazione a proprio vantaggio. E torniamo dai nostri protagonisti. Queenie e Jacob si presentano a casa di Newt. Su questa scena non c'è moltissimo da dire, se non che serve a mostrarci una Queenie già in difficoltà per via delle regole e delle leggi che governano il mondo magico. Infatti, scopriamo che non solo ha litigato con Tina per via della sua relazione con Jacob, ma che ha anche incantato quest'ultimo per poterlo sposare. Una delle cose che mi ha lasciata più scossa durante la prima visione di questo film è stato il cambio repentino di casacca da parte di Queenie, tanto che sono stata portata a pensare ad un crollo psicologico da parte sua. Dopo diverse visioni, ho però ridimensionato un pochino la mia opinione. Credo infatti che il cambio risulti troppo veloce perché molto di ciò che accade avviene off-screen. Ricordiamo infatti che lei ha passato nove mesi o poco meno a fare conti con una relazione vietata che la potrebbe portare all'arresto e con il mancato supporto da parte di Tina, che è tutta la sua famiglia di fatto. Quindi le buone ragioni per desiderare la libertà a mio avviso ci sono tutte, semplicemente sono state mostrate poco. Per questo motivo si crea quel tipo di reazione alla ma è impazzita. A questo punto quindi tutti, per un motivo o per l'altro, si ritrovano a Parigi. Tina è lì per trovare Credence, Queenie per ritrovare Tina e Jacob e Newt per trovare le prime due. E qui si colloca la scena del circo. Ricordate il biglietto che Grindelwald ha fatto recapitare a Credence? Ecco, gli è arrivato e indica un probabile collegamento con le sue origini. Scopre infatti il nome della donna che lo ha consegnato alla psicopatica dei secondi salemiani del primo film. Quindi è Grindelwald di fatto a guidare il ragazzo nella sua ricerca, indicandogli dove guardare. Perché? La mia risposta è per distruggergli tutte le speranze e per rimanere di fatto la sua ultima opzione. Lui infatti prima gli fa credere di essere arrivato alla verità, la donna infatti conferma tranquillamente di averlo portato a New York per proteggerlo e poi gliela strappa via. L'auror cattivo infatti che li insegue, che per ordine di Grindelwald deve tenere Credence al sicuro, lo spaventa a tal punto che questo uccide la mezzelfa e quindi quello che credeva essere il suo unico legame familiare. E guardate un po' il caso, proprio in questo momento il ragazzo trova il pulcino spelacchiato che successivamente sarà fondamentale per dimostrare, tra molte virgolette, la sua identità. Le intenzioni di Grindelwald emergono poi anche in una scena successiva, in cui lui ci dimostra di sapere perfettamente qualità si toccare con Credence. Ci dice infatti cosa non darebbe per una famiglia per essere amato e ci spiega anche perché ci tenga tanto a lui. Infatti ci dice che lui è l'unico in grado di sconfiggere Albus Silente. Ma a questo punto lo approfondiremo meglio dopo. Altra scena, altro personaggio, viene introdotto Yusuf, fratellastro di Lita Lestrange e lui crede anche di Credence che pensa essere Corvus Lestrange. Il suo obiettivo è uccidere il fratello perché per via di un voto infrangibile fatto con il padre a cui ha giurato vendetta. Grindelwald e i suoi scagnozzi quindi si muovono a questo punto in più direzioni. Vanno a rubare l'albero genealogico dei Lestrange per portarlo al cimitero di Perlashess dove si svolgeranno le azioni finali e raccattano quindi per la strada in modo da poter far avere un confronto con lei a Grindelwald. Anche qui il mago scuro dimostra di saper toccare i tasti giusti spingendo sulla libertà di vivere e di amare tanto che la donna si presenterà volontariamente al cimitero al raduno finale. Prima però di arrivare alla scena finale e quindi di tirare anche le somme voglio parlare un attimo delle due scene che riguardano Silente. La prima è l'interrogatorio da parte degli Auror. Loro lo credono infatti a capo di una cospirazione volta a salvare Credence nonostante il pericolo che rappresenta. Quindi di conseguenza considerano lui stesso un pericolo dato che non sembra volerli aiutare nella lotta contro Grindelwald. Qui Silente dimostra di conoscere molto bene non solo il modo di agire degli Auror ma anche la dialettica e le tattiche dello stesso Grindelwald. Infatti li avverte di non intervenire. Loro ovviamente se ne sbattono altamente e vanno a Parigi. L'altra scena che riguarda Silente è invece la scena dello specchio delle brame. Scena tra l'altro molto bella a mio avviso che ci dice molto e sulla quale sono state fatte diverse teorie. Su quale sia il più profondo desiderio di Albus e Silente io ho due teorie in merito. Secondo la mia prima teoria Silente vedrebbe il momento del patto di sangue perché è la causa indiretta della morte della sorella e quindi il suo maggior rimpianto. In che senso? È possibile che Ariana sia morta in seguito al rimbalzare degli incantesimi dovuto al patto di non combattere l'uno contro l'altro e da qui il senso di colpa. Oppure teoria molto inquietante vede quel momento perché nonostante morte e sofferenza causate dal loro rapporto quell'unione di menti resta comunque il suo desiderio più profondo. Tra le due preferisco sicuramente la prima ma potrei accettarle entrambe se sviluppate a dovere. Arriviamo poi alla scena del cimitero. Grindelwald ha fatto in modo di portare tutti lì Newt, Tina e Leta grazie all'albero genealogico che non è più al ministero dove dovrebbe essere Credence su indicazione dello stesso Grindelwald che gli dice che gli scoprirà la sua vera identità e quindi di sua spontanea volontà mentre Jacob ovviamente la raggiungerà perché la vede nella sfera di cristallo di Nicola Flamel. Sono presenti poi anche gli Auror che sono venuti per acciuffare il cattivo. E qui arriviamo ad un altro snodo fondamentale ovvero la storia di Corvus Lestrange e quindi l'identità di Credence. Sappiamo che Yusuf crede che Credence sia Corvus e vuole quindi ucciderlo per questo motivo. Lita invece, che per me si chiamerà sempre Leta perché non riesco a chiamarla diversamente comunque Leta sostiene che sia morto in seguito allo scambio di neonati fatto da lei stessa. Qui ci sono da fare alcune precisazioni. La prima è che Leta non sa che fine ha fatto l'altro bambino. Ha sempre creduto che fosse morto ma non può saperlo per certo perché non era in acqua con lui semplicemente. Ciò è dimostrato dal fatto che lei va in cerca del suo albero genealogico perché lì c'è la verità. Solo così quindi può esserne certa. Quindi perché Leta va al ministero a cercare il suo albero genealogico? Perché come gli dice Tisius solo lì c'è la verità e quindi lei vuole scoprirla. L'albero conferma la sua storia e qui vi lancio una provocazione. E se Grindelwald non si fosse solo limitato a spostare l'albero genealogico ma lo avesse modificato alterando quindi la realtà al solo fine di distruggere anche l'ultima speranza di Credence questo sarebbe anche in linea con le cicatrici di Yusuf. Se Corvus infatti è morto come sostiene Leta perché Yusuf ha le cicatrici causate presumibilmente dal fatto che non stai seguendo rispettando il voto? Le opzioni riguardo tutta questa storia secondo me sono tre. La prima è che Corvus non sia affatto morto ma che non sia neanche Credence che stando alla storia di Leta è stato scambiato con il vero Corvus. La seconda è che Corvus non sia morto ma che sia Credence poco probabile dato la storia dello scambio dei bambini e la terza è che la persona che più ama il signor Lestrange non è e non è mai stata Corvus. Sì, perché il voto infrangibile pronunciato da Yusuf parla della persona che più ama Lestrange Senior quindi la sua deduzione che fosse il piccolo Corvus. Ma se così non fosse? Se fosse qualcun altro l'oggetto del suo amore ciò spiegherebbe la morte di Corvus in mare le cicatrici di Yusuf e l'identità ancora celata di Credence. Sono molto affascinata da quest'ultima teoria perché combacia con molti pezzi del puzzle. È anche vero che ci sono motivi anche per credere che Corvus non sia morto per niente quindi che sia ancora vivo. Uno su tutti il fatto che sappiamo che la stirpe di Lestrange continuerà e anche il fatto che Leta non sapesse per certo il destino del ragazzino lasciato sulla nave. Se così fosse credo che Grindelwald avrebbe semplicemente manomesso l'albero genealogico per farci pensare comunque che Corvus fosse morto in modo da escluderla come identità di Credence. a lui infatti non interessa affatto chi sia Corvus se sia o meno vivo ma solo manipolare il povero ragazzo quindi Credence. Verro di essermi spiegata. Dopo il discorso di Grindelwald poi sul quale non mi soffermerò perché ne ho parlato abbastanza nella recensione che riguarda il film le carte si rimescolano. Infatti Credence passa dalla sua parte perché e qui cito lui sa chi sono quindi passa dalla sua parte perché anche qui cito lui è la soluzione e Leta muore non prima però di aver distrutto il bong delle visioni di Grindelwald. Ora su questo punto butto lì una teoria molto emotiva dato che a me piace molto il personaggio di Leta e spero di rivederlo. Lei infatti secondo me potrebbe non essere morta ma solo prigioniera. Me lo fanno pensare due cose la prima è che la scena stacca un istante prima di vedere la sua completa distruzione il secondo motivo è il fatto che hanno dato molta importanza molto focus al suo personaggio e alla sua storia familiare per farla poi finire diciamo in tempi relativamente rapidi quindi ripeto è sicuramente una teoria emotiva dovuta al fatto che vorrei rivederla ma diciamo che io ci spero ecco. E arriviamo alla scena finale alla rivelazione che ha fatto cadere più di qualche mandibola a terra Credence è Aurelius silente è vero? Non è vero? Per me personalmente no e questo per tre motivi fondamentali il primo è quello che abbiamo pensato tutti ma chi è Aurelius silente non l'abbiamo mai sentito nominare in tutta la saga di Harry Potter e mi sembra improbabile che se lo siano lasciato sfuggire anche perché a livello di tempistiche ci sarebbe qualche problema dato che il buon vecchio silente senior era in carcere il secondo motivo riguarda Grindelwald e il suo modo di agire e di essere ricordate cosa abbiamo detto del primo film che lui è un illusionista un manipolatore qui ci sono entrambe l'illusione e la manipolazione l'illusione data dalla Fenice è un ottimo stratagemma per provare la sua teoria ma anche un possibile specchio per le allodole la manipolazione invece opera in tutto il film ogni volta che Grindelwald guida Credence nel viaggio alla scoperta delle sue origini quindi ogni volta che gli fa perdere la speranza e terzo motivo ma non meno importante le motivazioni di Grindelwald che ci sono state rivelate da lui stesso a lui serve l'obscuriale per sconfiggere Silente e quale miglior modo di metterglielo contro di far credere di essere stato abbandonato da lui al povero vecchio Credence questo è il mio pensiero quindi le mie teorie e il mio pensiero in generale sugli snodi più importanti di questo secondo film ovviamente potrebbe essere tutta una sciocchezza ma in quel caso spero che ci spieghino a dovere questa storia soprattutto di Aurelius Silente perché sarebbe comunque un punto piuttosto delicato da trattare all'interno del canon ultima postilla riguarda Nicolas Flamel la sua rilevanza nella storia non è molta a me non è dispiaciuto vederlo in azione soprattutto perché ci ha fatto vedere uno scorcio dell'organizzazione dei maghi che sembra far capo a Silente e questa è una delle cose che mi incuriosiscono maggiormente da vedere nei prossimi film e che spero ci mostreranno quindi a dovere sarà una variante dell'ordine della Fenice o forse è proprio l'ordine ad essere un arto di un organismo ben più complesso staremo a vedere speriamo diciamo che in mia generale per oggi credo che possa essere tutto penso di aver dato una panoramica piuttosto completa di ciò che penso di questo film e di avervi dato anche qualche spunto interessante a livello di teorie e se poi volete sapere un'opinione per quanto riguarda la trama i personaggi e quant'altro vi rimando comunque alla recensione che c'è sul canale che riguarda un po' più questi aspetti che ho preferito non trattare nuovamente quindi per oggi è tutto fatemi sapere quali sono le vostre impressioni le vostre teorie se vi piacciono i miei contenuti spolliciate e iscrivetevi al canale noi ci vediamo si fa per dire al prossimo video e ciao 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 ciao